L'Arezzo Questo è il girone A, insieme a L'Arezzo, Alessandria, Carraghese, Como, Cremonese, Gianerminio, Livorno, Lucchese, Lupa Roma, Olbia, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Prato, Pro Piacenza, Racing Roma, che è la vecchia Roma, Lupa Castelli Romani, Renate, Roburziena, Tutto Cuoio e Viterbese, un misto dunque tra il girone dell'anno scorso e quello di due anni fa dopo il ripescaggio a Maranto. Nel girone B finisce una squadra X ancora da definire, Ancona, Bassano, Fano, Feralpi, Salò, Forlì, Gubbio, Lumezzane, Maceratese, Mantova, Modena, Padova, Parma, Pordenone, Reggiana, San Benedettese, Sant'Arcangelo, Sud, Tirol, Teramo e Venezia. Nel girone C, quello meridionale, Acragas, Casertana, Catania, Catanzaro, Cosenza, Fidelisandria, Foggia, Fondi, Juve, Stabia, Lecce, Matera, Melfi, Messina, Monopoli, Paganese, Regina, Siracusa, Taranto, Vibonese e Virtus, Francavilla.